Unicornini bentornati! Ci rivediamo dopo la pausa estiva. Ho deciso di tornare in video con un vlog con il quale posso raccontarti un po' cosa è successo in questi mesi perché ci sono delle novità di cui devo parlarti. Una grande novità, ma ne parliamo dopo. Andiamo per ordine. Innanzitutto, se passavi di qui per caso, il mio nome è Nicole e questo è Unicorns It Cookies, un canale dove parliamo di dolci in modo semplice e divertente. Ho deciso di fare questo vlog prima di ricominciare con le nuove ricette, prima di tornare in video per raccontarti qualche novità. Voi mi continuate a chiedere ma la Becquery, ma la Becquery dopo la pandemia sei rientrata in Becquery, non sei ritornata? Ecco, in questo video raccogliamo tutte le novità, lato Becquery, lato anche un'altra cosa particolare che è successa, particolare, una cosa che vi voglio condividere. Andiamo per ordine raccontando un po' cosa è successo quest'estate. Allora, quest'estate, un po' per il discorso ovviamente post-Covid e tutto quanto, ho deciso di andare in Italia in vacanza semplicemente per andare a vedere la famiglia. Tra una cosa e l'altra non ci si vedeva già da diversi mesi. Credo che l'ultima volta che ero tornata in visita in famiglia fossero passati tipo otto mesi, insomma, dall'ultima volta, più o meno. Quindi a fine luglio siamo andati prima in Friuli dalla mia famiglia. Io, come sai, se mi segui, sono friulana, sono di origini friulane, ma mio papà è pugliese. Quindi ho un mix di nord e sud, di sprint e di Friulandia, ecco. Lo sai perché tra l'altro se mi segui su Instagram comunque ci siamo visti un po' anche durante l'estate. Ti ho fatto vedere qualche cosina anche mentre ero in Friuli. Dopo qualche giorno, se non ricordo male, in Friuli sono stati quattro giorni. Poi treno, giù a Roma, giù a Roma abbiamo la famiglia del mio compagno e tutti i miei amici. Quindi grande festa alla corte di Francia. Io lì, tra l'altro, fermi tutti, Roma. Amici unicornini romani, il caldo di Roma è pazzesco. La sottoscritta non l'ha retto al secondo giorno, sono svenuta in strada, sono finita anche in ospedale. Dopo, ragazzi, è finita malissimo. I primi giorni a Roma sono finiti malissimo perché non lo reggevo. Io poi soffro di pressione bassa in questo periodo, ho ancora più la pressione bassa. Cos'è successo? Sono andata a prendere un caffè con un'amica. Yeah, 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 tutto a posto, caffè bellissimo, chiacchierata lunghissima, bellissima. Allora di pranzo ci siamo salutate. Io sentivo, perché non so se ti è mai capitato di svenire, ma se sei svenuto in passato, sai che c'è quella sensazione di ecco, ecco, sta per ricapitare, oddio. Ho avuto un momento di nausea? Saluto tutti, ringrazio per la compagnia. Mi dirigo verso il campanello del condominio dove dovevo entrare. Credo di aver suonato, io non lo so se ho suonato o il dito è semplicemente mancato il campanello, ma sono andata dritta di testa sul muro e poi boom, atterra come un salame. La fortuna è che la mia amica si era girata in quel momento per salutarmi l'ultima volta, sai quando ti dividi e poi ti viene da girarti per assicurarti che l'altro salga, non lo so, queste cose che si fanno. e io a un certo punto vedo, comincio a vedere nero e sento NICO! Mi giro e vedo lei che corre verso di me e mi ha afferrato prima che andassi lunga completamente. Da questo bello scherzetto mi sono fatta un occhio mezzo nero che è durato tutti i giorni successivi e un ginocchio frantumato, oddio, tutto grattato. Quindi questo è stato il mio impatto romano. Tappa all'ospedale perché sì, perché avevo preso una bella botta in testa e poi ti dico perché anche meglio tappa in ospedale e poi niente, siamo stati qualche giorno, la mia estate è stata famiglia, tutto a posto, tutti al sicuro, svenimento a Roma con successivo spesamento per qualche giorno tra la botta e tutto quanto, però vabbè. Poi abbiamo prenotato qualche giorno in Cilento giusto per farci un pochettino di mare, una località raggiungibile in macchina da Roma. Abbiamo beccato l'unica settimana di pioggia del Cilento che era a fine luglio. È piovuto tutto il tempo, ha fatto fresco, il che da un lato forse per la mia pressione bassa è stato un bene, ma io ho lasciato la pioggia per ritrovarla in Italia. Statisticamente succede una volta ogni luna, a me succede spessissimo di andare in Grecia e piove, torno in Italia e piove, infatti appena siamo andati via è tornato il sole. Quindi, diciamo, la vacanza che doveva essere una dose di vitamina D e di ricarica di batterie non è andata proprio come ci aspettavamo. E vabbè, la vita è anche questo e infatti ho pensato che non ci si può ridurre. Poi ho fatto l'unicorno filosofico, perché ho pensato non si può delegare a un'unica vacanza magari di cinque giorni tutto il lavoro e tutta l'attenzione che magari si è accumulato durante l'anno. Quindi, mentre mi mettevo a filosofeggiare guardando l'orizzonte, guardando il nuvolone che stava venendo sempre più vicino verso noi mentre ero in spiaggia, pensavo di quanto è importante crearsi un ambiente durante tutto l'anno sempre bello, che sia la casa nella quale vivi, il lavoro che fai, l'attività che fai nel weekend per ricaricare le batterie o nel tuo giorno libero. Insomma, è tutto l'anno importante. Non si può delegare alla vacanza la responsabilità di ricaricarci le batterie per un intero anno. Quindi, considerazioni che butto anche a te, è proprio importante vivere in una casa nella quale ci troviamo bene, essere circondati da persone, fortuna quella ce l'ho, io tra amici che abbiamo anche qua e in casa, però è davvero molto importante non delegare all'unica settimana di vacanza, a meno che qualcuno non abbia la possibilità di fare tante vacanze durante l'anno, perché questo è il piano B, riuscire a fare più di una vacanza, perché statisticamente ti può capitare che la vacanza non ti vada bene, no? Perché comunque può succedere di tutto. Il clima non si può governare, anche che chi l'avrebbe pensato di una settimana di pioggia ad agosto? Nessuno. Bene, allora, tornati poi da lì Agropoli, siamo stati nella zona di Agropoli e Cilento e siamo tornati a Roma, non più bianchi di prima, però quasi, almeno siamo riusciti a prendere quella tonalità che ti sa di sano, no? Quel tic in più. L'estate è finita, rientrando poi qui a Manchester. Poi, lato bakery, perché me lo chiedete spesso. Allora, per fartela breve, lockdown. La bakery chiude, io tra l'altro, lo sai, dalla live precedente ti avevo raccontato in una live appunto, dovevo cambiare bakery perché avevo deciso di cominciare ad accrescere le mie competenze anche su altro, quindi trovo lavoro, mi prendono dall'altra parte, dico addio alla mia bakery del cuore, dove ero stata due anni, succede il lockdown, all'improvviso la bakery nuova, che era una cioccolateria in realtà, mi dice, no, guarda, meglio che rimani dove eri, e io gli dico, ma io non sono più dove ero, perché dove ero? Gli ho dato la disdetta, no, gli ho dato la disdetta, come si dice, gli ho dato, insomma, ho detto che andavo via, come faccio a tornare dove ero? Non posso tornare dove ero. Insomma, è successo che questa bakery mi ha un po' lasciato così, io torno dal mio capo col quale comunque avevo un ottimo rapporto, e che sapeva che avevo deciso di andare via per continuare il mio percorso di crescita lavorativa, quindi non era per loro che volevo andare via, e visto che mancava un giorno, o un paio di giorni dallo scadere del contratto, mi ha mantenuto all'interno del team, quindi siamo andati in lockdown, è iniziato lockdown con quella che poi, praticamente la bakery ha chiuso, ha chiuso per tre mesi, e il mio capo mi ha detto, guarda, a me dispiace che tu te ne vada, quindi se vuoi ti mantengo come mia ragazza del team, delle bakers, in cucina, e quando riapriamo rientri tra di noi, insomma, come se non fosse successo niente, e io faccio ok, grazie, grazie, e quindi sono rimasta sotto l'ala protettiva della bakery, anche felice del fatto che la relazione si fosse mantenuta, no? Comunque quello che era stato costruito in due anni di lavoro, avesse fatto sì che lei invece di dirmi, guarda, avevi fatto un'altra scelta, ora vai per la tua strada e rimani cucuc, mi abbia detto, a braccia aperte, se vuoi rientra. E quindi, cosa è successo? Che poi a giugno, mi ha contattato il capo, e mi ha chiesto, mi ha detto che eravamo pronti per riaprire, però io in quel momento, a parte che qua è stato gestito tutto il discorso Covid di maniera molto diversa. Se dovessi confrontare come è stato trattato tutto il discorso del lockdown in Italia, il discorso mascherine, il discorso igienico, bla bla bla, in Italia rispetto all'Inghilterra, qui le misure sono state molto minori. Quindi, cos'è successo? Che quando mi ha detto, riapriamo la bakery, però qui eravamo in pieno lockdown ancora, quindi si sarebbe aperto in condizioni diverse, però la gente non girava con la mascherina, non girava con i guanti, non c'erano obblighi di questo tipo. Lavorando nella ristorazione, lavorando comunque a contatto col pubblico, non me la sono sentita di rientrare, ti dico la verità, ho avuto paura di rientrare, perché so che non si sarebbero, non perché, non nel mio lavoro specifico, non nella bakery specifica, ma per come è stato trattato e gestito il Covid qui, sapevo che non avrebbero avuto quelle misure che vedevo invece applicate in Italia e che secondo me erano giuste. Distanziamento sociale, mascherina, eccetera, eccetera. E in bakery, io comunque, alcuni giorni alla settimana, sarei stata anche nel lato caffè, e avrei comunque servito clienti, eccetera, perché era previsto almeno una volta alla settimana di stare anche davanti e non solo in cucina. Però la cucina, comunque con le mie colleghe, so che gli spazi sarebbero stati piccoli, saremmo state vicine, e non me la sono sentita. Non me la sono sentita di rientrare, quindi non sono rientrata in bakery, perché aspetto un bambino. E questo è il motivo anche per il quale non ho retto il caldo in Italia, sono svenuta, perché ho la pressione bassa, e quindi qualcuno di voi mi chiama già da tantissimo tempo, non so perché, non so come è nato, mi chiama Mamma Unicorno, e niente, l'avete fatto averare. Mi emozio. L'avete fatto averare. Fermi tutti! In perfetto stile della sottoscritta, ieri dall'emozione di questa grande notizia, pure la videocamera mi si è fermata, io non me ne sono accorta, ho parlato da sola per dieci minuti, e poi quando la sera sono andata a montare il video, mi sono trovata senza metà video. Quindi, questa è la notizia, oltre, già, questi sono gli aggiornamenti, in merito al lavoro, in merito a cosa è successo l'estate, siamo già, non mi ricordo più se l'ho detto, se si è registrato, però, sono già al quinto mese e mezzo, quindi ho aspettato un bel po' a dirvelo, un po' perché volevo prima andare in famiglia, e dirlo di persona, e poi, insomma, condividere la notizia, e alla fine, tra una cosa e l'altra, abbiamo aspettato un bel po', perché siamo al giro di boa, nel senso che sono la ventesima settimana su 40, quindi la metà è stata fatta, ora per me è meno 19, meno 18, meno 17, quindi comincia fondamentalmente la paura di questa grande novità, che è comunque bellissima, e niente, volevo cogliere l'occasione, infatti mi dispiace che non sia registrato, per raccontarvi una cosa, in merito al discorso bimbi, in merito al discorso persone come me, che hanno un canale YouTube, oppure un profilo social, gente che ha magari un seguito, spesso viene preso con un po' forse sotto gamba, anche in buona fede, il fatto di poter chiedere a una persona, se ha figli, se vuole figli, eccetera eccetera, io mi sono ritrovata, anche come sai, non ti racconto, ti racconto della mia vita da cake baker, ma non mi dilungo, e non porto sul canale aspetti personali, per una questione di riservatezza e di carattere, mi ero ritrovata mesi 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 fa, a fare una domanda su Instagram, sai quando c'è il box delle domande, quelle, quando metti il box e dici semplicemente, fammi una domanda, e io pensavo che le domande sarebbero tustate riguardanti il mio lavoro, una torta, eccetera eccetera. Invece molte persone volevano sapere, mi chiesero proprio, hai figli? Sei fidanzata? E in un periodo personale, nel quale io onestamente stavo cercando di avere figli, e non venivano, erano tutte pugnalate al cuore. E questo te lo sto dicendo, perché spesso viene preso sotto gamba, il fatto che questo sia un argomento delicato, al quale la gente è abituata, a invadere involontariamente la privacy delle persone, senza pensare che dall'altra parte, magari c'è una persona che per questioni di salute, non può avere figli, che magari ci sta provando da tanto tempo, e che se non te ne ha parlato, e non ha voluto nella sua presenza online, raccontarti quella parte di sé, vuol dire che vuole tenerla privata. Ti faccio questo appunto, se mi segui e se ti sei affezionato a me, per chiederti sinceramente, di non affrontare questo argomento, con le persone, anche nella vita reale, ma soprattutto con le persone, che hanno un profilo online, al quale viene voglia di chiedere qualcosa in più, sulla loro vita, non fare domande riguardo, l'aspetto figli, perché potresti fare proprio male, potresti scagliare una freccia dritta al cuore della persona, perché tu non sai se quella persona ha perso un bimbo, e ovviamente non l'ha condiviso, se ci sta provando da tanti anni, e non riesce a esaudire questo suo desiderio, io, per me non è stato velocissimo, te lo confesso, e quindi, per fortuna, non per troppi anni, però, ho conosciuto, ho vissuto la frustrazione, del, non riuscire in questo sogno, io, adesso, come vedi, sto condividendo la bella notizia, però, mi reputo, fortunata, reputo che sia normale questa cosa, e quindi ti chiedo solo di pensare un attimino in più, e avere una sensibilità in più su questo argomento, se hai a che fare con qualche donna, perché tu non sai mai lei che cosa sta vivendo, e so che per, con leggerezza, magari molte mamme fanno, macchinoni, so che molte mamme, perché magari per loro è stato facile, fanno questa domanda con leggerezza, pulita, insomma, senza cattiveria, però, proprio perché non, non per tutti è facile, voglio usare questo spazio, perché alla fine ho un canale con un, siamo 80.000 unicornini, più o meno qua, e quindi, trovo giusto, anche farvi sapere questa cosa, e ricordarvi, di, che è un terreno minato, ecco, per me, c'è una bella notizia, invece, che quindi ho condiviso con voi, però, che io abbia una bella notizia, non vuol dire che sia scontato, ecco, questo, mi volevo passare questo messaggio, in ogni caso, il pancione, adesso si vede un bel po', so che volete vederlo, e ve lo faccio vedere, e siamo al quinto mese, quindi devo dire che, sta procedendo bene, la pancia, comunque non cambia niente sul canale, non portate, non, sapete, io parlo di dolci qua, non parlo di cose private, ma, volevo, volevo, ero indecisa se dare la notizia o no, ma come si fa a non dare una notizia di questo tipo, quindi ho capito, che ci può essere equilibrio, tra dare una notizia personale, e rimanere lo stesso riservati, senza per forza dover far raccontare tutto quanto, te lo dico già, non credere che io mi faccia il video, mentre sto facendo le doglie, o mentre sono in travaglio, perché non succederà, non so, io ammiro chi possa mettersi a farlo, tu considera che io, per un lungo periodo di vita, mai avrei immaginato di diventare mamma, ma te lo confesso, e mai avrei immaginato nella mia vita, di diventare mamma in Inghilterra, e partorire in inglese, quindi tu immaginati se io quel giorno, potrò essere concentrata, su condividere, con una videocamera, il momento, quindi, questa è la news, questo è il motivo per il quale, se magari a un certo punto, nascerà a gennaio, a un certo punto, mi prenderò una pausa, per affrontare questa nuova avventura, è questo il motivo, e che dirti, niente, arriveranno, qui, non mi saltano i bottoncini, arriveranno anche tante novità, sul canale, sul blog, adesso sto cercando di rivoluzionare tutto, per un Unicorn Seat Cookies Volume 2, perché ho tante idee bellissime, che spero di realizzare, e quindi, speriamo, speriamo, spero di poter introdurre le live, del mercoledì, almeno una o due al mese, il prima possibile, ovviamente, ti tengo aggiornato, soprattutto, tramite la newsletter, quindi, se ancora non lo hai fatto, iscriviti alla newsletter, perché lì, sicuramente, non perderai tutte le novità, che ho in mente per voi, ho in mente delle sorprese, poi, chi è iscritto alla newsletter, riceve sempre dei regalini in più, da parte mia, perché, per me, il fatto che voi siate iscritti, e vogliate far parte, davvero, della community di Unicorn Seed Cookies, è solo che un piacere, quindi, iscriviti alla newsletter, se ancora non lo hai fatto, qui sotto trovi il link, il regalo di benvenuto, è una bellissima tabella, delle conversioni, con la quale, potrai, adattare gli ingredienti, della ricetta che vuoi fare, alla teglia che hai in casa, quindi, una tabella preziosissima, che ho creato, con tanta cura, per voi, per darvi il benvenuto, quindi, sotto c'è il link, iscriviti, così rimarrai aggiornato, anche su quando inizio le live, le live servono per fare, per salutarci, per sentirci dal vivo, e per farmi le domande, magari, se, perché sai, nei social, per me, non è più possibile rispondere a tutti i direct, non è più possibile rispondere a tutte le domande, ma, il motivo in più per cui faccio, il motivo in più per cui faccio le live, è perché, se tu mi fai una domanda, gli altri vedono la risposta, e può essere di aiuto anche gli altri, mentre, se me la mandi in direct, ad esempio, su Instagram, la vediamo solo io e te, e non è di aiuto anche per gli altri, e questo è un peccato, quindi, noi ci vediamo prestissimo, con una nuova ricetta, nella quale tornerò in video, vedrai il pancione, sempre di più probabilmente, però, diciamo, teniamo questa cosa, nell'intimo, quindi, sul canale non cambierà niente, sempre parleremo di dolci, se voglio cominciare a parlare di pappette, magari facciamo, un nuovo canale, non lo so, quale nome diamo al nuovo canale, tipo, mamma unicorno, come mi chiamate voi, già da qualche tempo, non lo so, se ci sarà tempo e modo, magari splitteremo un secondo canale, sulle cose per bambini, che potrebbe essere anche una bella idea, solo un sogno, perché la lista delle cose da fare, che voglio proporvi, è immensa, non avete idea, immensa, parlando della bakery, quindi, non rientro in bakery, perché non mi sento al sicuro, per la gravidanza, te lo confesso, e poi, perché siamo cresciuti così tanto, in questi mesi, il canale è cresciuto così tanto, e mi impegna così tanto, che, se io fossi rientrata in bakery, avrei dovuto mollare, unicorn shit cookies, ti dico la verità, quindi, visto che ho tanti progetti, per il canale, e per quella che è, appunto, il progetto stesso, lo sai, nella newsletter, te l'ho raccontato, qual è il mio scopo, e perché faccio i video, e perché parlo di dolci, in questo modo, e quindi, per me è molto importante, non lasciare questo percorso, quindi, accetto la sfida, di vedere, se con gli unicorn shit cookies, possiamo davvero, conquistare il mondo, come ti dico sempre, per scherzo, e quindi, iniziano tante belle cose, le avventure adesso, questa in primis, e poi, quella, quella del progetto, tanti sogni, tanti sogni nel cassetto, speriamo di realizzarli tutti, uno dopo l'altro, in sequenza, e basta, queste sono le novità, noi ci vediamo, la prossima settimana, con un nuovo video, dedicato ad una ricetta, e poi, un po' sulla newsletter, un po' sui social, e sempre qua, su YouTube, ti mando un abbraccio, e concludiamo, con il nostro salito, saluto, ciao, o, 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 o,